5 il duca d'oragua il deputato il patriotta dov'è dov'è eccolo lì è ingrassato manca da quasi tre anni viene da torino signor duca eccellenza e qui saluti ed inchini a destra e a sinistra certuni che si tiravano d'accanto una decina di passi prima di incontrarlo e si scoprivano come al passaggio del santissimo sacramento tutti che si voltavano a seguirlo un pezzo con gli occhi quando era già passato pochi godevano il privilegio di poterlo accostare di stringergli la mano di chiedergli le sue notizie pochissimi gli eletti potevano onorarsi di accompagnarlo di scortarlo di mescolarsi al codazzo degli intimi ammiratori ed amici che lo seguivano su e giù alla prefettura al municipio ai circoli ed egli teneva il centro della strada quasi ne fosse il padrone ascoltato devotamente da quanti gli stavano a fianco aspettato da tutta una corte intenta a tessere e a ritessere le sue lodi quando per un piccolo bisogno imperioso egli s'accostava a un cantone al palazzo lo stesso andi rivieni d'un tempo elettori sollecitatori delegazioni di società politiche che tornavano a ringraziarlo a voce dopo averlo ringraziato per iscritto del bene che aveva fatto al paese e dai concittadini grazie a lui la prima ferrovia a cui si era messo mano in sicilia era quella da catania a messina e il porto aveva numerosi approdi di piroscafi e la città era stata dotata di numerose scuole d'una ispezione forestale d'un deposito di stalloni e un istituto di credito la banca meridionale stava per sorgere e il governo prometteva di intraprendere una quantità d'opere pubbliche di aiutare il municipio e la provincia e i buoni liberali i figli della rivoluzione ottenevano a poco a poco quel che chiedevano un posto un sussidio una croce la sua popolarità toccava l'apice alcuni è vero gli rimproveravano l'assenza durante i fatti del 62 addebitandola alla paura e tiravano in ballo le storie del 48 lo accusavano d'essersi finalmente rammentato del collegio adesso che sciolta la camera voleva gli riconfermassero il mandato ma questi mormoratori erano gli eterni malcontenti i pochi repubblicani qualche garibaldino sfegatato tutta gente che non poteva perdonargli la sua iscrizione al partito conservatore nelle conversazioni politiche egli difendeva infatti a spada tratta la politica moderata ora che abbiamo fatto la rivoluzione e raggiunto lo scopo e celebrava l'azione prudente del governo deplorava le intemperanze di garibaldi biasimava il malcontento contro la convenzione di settembre affermava che la lega dei buoni era necessaria per salvare la nazione dai nemici esterni ed interni più che nei primi tempi della deputazione faceva colpo mentovando i suoi grandi amici politici quando andai da minghetti rattazzi mi disse in casa del ministro però non citava più il barone palmi se gli parlavano delle gesta del nipote raimondo faceva con le spalle col capo un breve moto che poteva dire tutto secondo l'umore dell'interrogato approvazione compatimento biasimo ma oramai la situazione di raimondo e di donna isabella era legittima e tutti i parenti dopo l'esempio del principe li trattavano come marito e moglie in meno di sei mesi la corte vescovile riconosciuto che il matrimonio era stato contratto per forza e con la paura aveva liberato la fersa per quello di raimondo con la palmi c'era stato un poco più da fare da principio aspettavano che il barone si decidesse anche lui a chiedere l'annullamento del matrimonio della figlia asserendo di averla forzata a contrarlo ma il barone testa di villanco ciuto spiegava pasqualino aveva e avrebbe detto di no fino al momento di tirarle cuoia quantunque sua figlia felice memoria si fosse finalmente posto il cuore in pace specialmente apprendendo che il primo matrimonio non esisteva più e che il conte aveva un figlio da legittimare la signora donna matilde giustizia innanzitutto nonostante le sue stravaganze era ragionevole in fondo e sapendosi del resto malata comprendendo che un po prima un po dopo il conte sarebbe rimasto libero sarà persuasa di pregare il padre che consentisse allo scioglimento del matrimonio civile del religioso no perché aveva certi suoi scrupoli un po curiosi sulla santità del sacramento ma basta suo marito si sarebbe contentato dello scioglimento civile i conti erano però fatti senza la mulagine del barone villano il quale giurava di voler prima morta la figliuola che consentire alla liberazione del genero ah no e allora il continuo aveva chiesto lui di essere sciolto adducendo che la madre lo aveva costretto a prendersi quella moglie sapevano tutti che donna era stata la principessa con quanta prepotenza s'era imposta ai figli non aveva violentato la volontà di chiara per darle il marchese di villardita così aveva violentato quella di raimondo per dargli la palmi decine centinaia di testimoni affermavano che il continuo mai e poi mai aveva voluto prendere moglie prima di tutti la parentela il principe le sorelle i cognati gli zii le cugine poi gli amici poi la servitù poi tutta la città ma per ottenere lo scioglimento del matrimonio bisognava dimostrare che all'atto di pronunziare il sì che lo legava per sempre don raimondo avesse provato un timor grave e allora il cavaliere don eugenio era venuto innanzi al magistrato per testimoniare che la principessa sua cognata aveva fatto accompagnare il figliuolo alla parrocchia da due campieri armati i quali se egli avesse risposto no dovevano legarlo buttarlo in fondo a una carrozza che stava ad aspettare vicino alla chiesa e portarlo in campagna per usargli le maggiori sevizie dai feudi di mirabella erano venuti due campai a confermare la testimonianza e il cocchiere l'avea suffragata per suo conto e il sagrestano pure così il tribunale aveva fatto giustizia e certa gente pasqualino non se ne dava pace pretendeva che quelle testimonianze fossero false che i campai fossero stati pagati che don raimondo avesse dato una bevuta di trecentonze allo zio don eugenio quasi che don eugenio uzeda di franca lanza gentiluomo di camera di sua maestà ferdinando secondo senza esercizio perché ferdinando non era più di questo mondo e i suoi discendenti avevano ricevuto il ben servito fosse capace di un'azione di questa fatta quasi che i giudici fossero gente da accettare le deposizioni non vere altri volevano dare a intendere che come uomo il continuo non poteva spaventarsi delle minacce e che non si era mai dato il caso ad un annullamento di matrimonio per costrizione della volontà dello sposo non si era ancora dato e adesso si dava o bella che ci trovavano da ridire non ci aveva trovato da ridire neppure il barone palmi che non aveva preso parte alla causa le male lingue rincaravano che il barone aveva lasciato correre per amore della figlia la quale era in fin di vita ma pasqualino come vero dio certe cose neppure intendeva come potessero capire in mente umana che c'entrava la malattia della signora donna matilde col silenzio del barone forse che a saper dissolto il matrimonio la signora matilde sarebbe guarita dalla contentezza era morta invece saluta a noi qualche mese dopo le giuste nozze del conte di donna isabella dunque il barone era rimasto zitto perché sapeva che il genero diceva la verità subito dopo la pace col principe raimondo e donna isabella si erano riconciliati con una gran parte degli antichi oppositori la cugina graziella specialmente si era messa a difenderli con maggior calore dello stesso pasqualino dimostrando che la passione è cieca che gli uomini sono fatti di carne e le donne pure e che la colpa di tutto quel che si succedeva andava attribuita tutta la leggerezza per non dire altro della palmi tuttavia buona parte della nobiltà restava a fare il viso dell'arme al re mondo e dall'amica ma la cugina assicurava che a poco a poco tutti si sarebbero addomesticati specialmente quando i tribunali avessero fatto giustizia accordando i divorzi e non contenta di dare assicurazioni faceva propaganda persuadeva i tentennanti teneva fronte ai borbottoni frattanto ringraziato ferdinando dell'ospitalità che gli aveva accordata raimondo si era preso in affitto un quartiere nel palazzo roccasciano e verrà andato a stare insieme con la futura moglie giacomo il priore il duca avevano veramente consigliato loro di non farne nulla di restare piuttosto alla pietra dell'ovo fino al giorno della loro legittima unione e poi andare via a napoli a milano a torino in mezzo a gente nuova ma donna isabella a cui le schifiltose avevano fatto troppi affronti voleva prendere la rivincita ed assaporare il trionfo raimondo impegnato a spuntarla contro tutti e tutto faceva ancora suo malgrado ciò che ella voleva fermo proposito di lui era ad andare via al più presto non già per le ragioni di prudenza suggerite dai parenti ma perché non ammetteva di poter vivere due giorni di seguito senza un'estrema necessità nel paese nativo poche parole dell'amica bastarono a dissuaderlo i suoi parenti non consigliavano forse quel partito perché nonostante la pace avevano mediocre piacere di trattarla e preferivano saperla lontana non c'erano tuttavia tante persone che la salutavano freddamente che evitavano di parlarle ed egli cominciò a far spese pazze per metter su una casa volle che il matrimonio si celebrasse con la massima pompa quasi sfidando chi prima aveva sostenuto impossibile riuscita della sua impresa fu una festa sontuosa alla quale molti di quelli che si erano ostinati nel biasimo sollecitarono il grande onore di poter assistere e così donna isabella saporò la volutà di vederseli ai piedi peccato che la cugina graziella la quale aveva tanto contribuito a questo effetto non potesse goderne anche lei poiché suo marito pochi giorni prima aveva preso un raffreddore che pareva all'inizio una cosa da nulla ma che giusto la notte degli sponsali degenerò in polmonite e tre giorni dopo lo ammazzò tutti gli uzeda furono da lei in quella dolorosa circostanza il principe specialmente nonostante l'abituale freddezza mostrò di prendere molta parte al dolore della cugina e la pareva veramente inconsolabile raccontava a tutti piangendo la gran bontà del povero marito suo il grande amore che gli aveva portato l'irreparabile sciagura che quella morte era per lei soltanto la vista dei suoi cari cugini i conforti della famiglia lenivano il suo d'olio i cugini gli zii erano ormai i soli che le restavano e la mise per ogni dove i segni del corrotto per poco non si tinse di nero la faccia e durante un buon numero di mesi rifiutò ostinatamente di prendere aria neanche in carrozza chiusa di sera ma la sua prima visita fu al palazzo del principe dove a poco a poco riprese l'abitudine di venire spesso a confortarsi si prendeva in braccio teresina ed esclamava con voce rotta figlia mia figlia mia se il signore mi avesse concesso una figlia come te non sarei rimasta sola al mondo il signore ti conservi sempre all'affetto di tua madre figlia figlia mia tanto che la principessa margherita molto impressionabile si metteva a piangere anche lei col tempo non di meno quel grande dolore si calmò divenne più composto tale da consentirle di occuparsi delle cose mondane suo marito l'aveva lasciata erede universale d'una discreta sostanza tal che ella non aveva da inquietarsi per l'avvenire piuttosto non sapendo come disbrigare gli affari dell'eredità rivolgevasi al cugino principe il quale glieli metteva in piano pertanto ella veniva adesso tutti i giorni al palazzo certi giorni più d'una volta ma quantunque non avesse affari andava pure spesso da lucrezia dalla zia ferdinanda e dalla cugina isabella in casa di costei tuttavia a causa del lutto non compariva il lunedì giorno nel quale la contessa riceveva quest'uso di ricevere in un giorno determinato era una gran novità della quale si discorreva molto donna isabella che non si appagava del trionfo d'una sola sera e voleva piegare le ultime ostinate oppositrici l'aveva introdotto riuscendo così a dare al suo salotto un tono speciale un'importanza straordinaria tale che le più restie brigavano finalmente l'onore di esservi ammesse tal che dopo appena tre anni che era venuta in una volgare camera d'albergo moglie della mano manca osteggiata da tutti e la troneggiava in quell'inverno del 65 autentica contessa di lumera fra una corte di ammiratori grazie grazie diceva a raimondo gettandogli le braccia al collo e stringendolo a sé tu l'hai voluto e ottenuto grazie grazie egli restava di marmo sotto quelle carezze vinta la partita cessata la febbre che lo aveva animato contro le difficoltà i contrasti e le opposizioni di ogni genere faceva il conto di quanto gli costava quel risultato confusamente sordamente poiché non poteva convenire di essere stato tanto cieco sentiva d'aver lavorato a ribadirsi al collo una nuova e più pesante di infrangibile catena quando invece la sua personale aspirazione il suo unico ardente desiderio sarebbe stato quello di liberarsi del tutto scontento irrequieto nervoso frenavasi dinanzi alla gente ma in casa quei familiari trovava nelle circostanze più futili un motivo di sfogarsi di gridare di maltrattare qualcuno pasqualino riceveva sulle spalle il fitto della gragnuola donna isabella sentiva la tempesta minacciare anche lei ma la stornava a furia di sommessione secondando sempre e comunque l'umore del marito adesso l'incosciente rancore di cui raimondo era animato contro di sé rovesciavasi sui parenti egli sapeva che in modo diverso per diverse ragioni incoraggiandolo o contraddicendolo avevano contribuito al suo danno e non potendo accusare se stesso se la prendeva con quelli sua moglie per evitare che egli pensasse ad altro gli parlava male di tutti gli uzzeda e la materia era inesauribile chiara per esempio che aveva fatto la scrupolosa quando essi non erano uniti legittimamente adesso dava da parlare a tutta la città per le cose vergognose che tollerava in casa sua con l'utero fradicio dopo l'estirpazione della ciste non poteva più essere toccata dal marito e di che si lagnava quella pazza forse della condizione in cui era ridotta del male che la minacciava sordamente no signore il suo gran dolore era di non poter servire a federico e comprendendo che questi il quale non aveva niente di fradicio anzi era sanissimo come una lasca non poteva far quaresima tutto l'anno che aveva pensato di scegliergli lei stessa certe fiorenti cameriere una più bella dell'altra e gliele metteva nel letto e le trattava zuccherini quasi le serviva lei stessa invece di farsene servire son cose vergognose è pazza esclamava donna isabella rammentando a raimondo la storia del matrimonio di chiara con quel marchese aborrito la violenza che la principessa madre aveva dovuto farle e gli altri e le altre infatti dove metter lucrezia la pazzia di costei era andata tutta al rovescio dopo aver fatto cose dell'altro mondo per sposare giulente adesso a poco a poco era arrivata quasi a disprezzarlo gli dava dell'asino a tutto pasto non poteva soffrire la sua politica che prima l'aveva accesa gli diceva sul muso a pur da tornare francesco secondo che vi legherà tutti quanti e le speculazioni di don e eugenio costui facendo pagare un occhio del capo al principe di roccasciano cocci ed imbratti li riprendeva per due baiocchi dalla moglie che invasata dal demonio del gioco li sottraeva dagli scaffali e la metamorfosi di ferdinando pareva che la passione per le ghiande non potesse finirgli mai un bel giorno le aveva piantate aveva lasciato in asso tutti gli esperimenti agricoli e meccanici e se n'era venuto a stare in città non mancava i lunedì della cognata andava tutte le sere al teatro frequentava le donne e per non metter più piede nel podere che gli era stato tanto a cuore lasciava che il suo fattore gli rubasse gli occhi è pazzo son pazzi donna isabella non parlava d'altro sapendo da pagare il rancore di raimondo egli l'aveva sì con tutti ma il suo astio più grande era serbato al principe giacomo non aveva prodotto solo un danno morale al fratello gli aveva anche fatto pagare salato il suo appoggio nei momenti in cui era impegnato a spuntarla contro tutti a trionfare degli immensi ostacoli di cui era irta l'impresa dello scioglimento dei matrimoni raimondo non aveva neppur calcolato quel che gli costava la pace col fratello maggiore era tanto allora il suo impegno che egli avrebbe forse consentito a cedere tutto quanto possedeva adesso che faceva il conto e tirava le somme vedeva che giacomo gli aveva preso un buon terzo del suo come a lucrezia aveva presentato a lui la nota dell'ospitalità accordatagli una nota molto lunga perché comprendeva le spese fatte per la palmi e le bambine poi aveva tirato fuori le solite cambiali apparse dopo la morte della madre addebitandogliene la metà e nei conti della procura aveva dimostrato d'essere rimasto creditori di parecchie migliaia donze per gli interessi accumulati degli anticipi così sarà preso i due fondi di burgio e burgitello ma la magagna più grossa era stata operata nella divisione perché egli aveva messo secondo gli conveniva i prezzi alle terre e tenuto per sé le migliori e le più vicine in cambio di altre proprietà gli aveva ceduto rendite fradice di difficile ed incerta riscossione e non contento di tutto ciò gli aveva anche imposto di rinunziare all'uso del quartiere nel palazzo a vito a quella clausola del testamento materno che gli stava come un bruscolo negli occhi passata pertanto la fuga della lotta raimondo era animato da un sordo astio contro di lui ma donna isabella parlandogli male del fratello non rammentava già queste cose comprendendo che l'argomento era a due tagli e si poteva ritorcere contro di lei invece criticava il carattere prepotente del cognato la sua severità verso la moglie il suo disamore per tutti la sua doppiezza con gli zii curiosa per indole vigile per interesse e la veniva scoprendo adesso in casa di lui qualche cosa di nuovo che le dava buono in mano hai visto hai visto diceva il marito tutte le volte che tornavano a casa dopo essere stati al palazzo e faceva il moralista anche lui bisognava sentirlo quando predicava e quella stupida di margherita che non si accorge di nulla la principessa infatti non pareva notasse che da un pezzo la vedova cugina veniva a consolarsi in famiglia tutte le sante mattine che il signore mandava e tutte le sante sere il principe s'occupava di metterle in ordine l'eredità e perciò avendo bisogno di parlarle l'andava spesso a trovare per suo conto certe volte la riconduceva con sé al palazzo la sera e la restava fino all'ultimo nella sala gialla dove la solita società si riuniva nessuno degli uzeda per il momento vi mancava il matrimonio di raimondo pareva avesse ricondotto la pace in tutti gli animi il duca pontificava aggiustava l'europa in 4 e 4 8 le finanze italiane in men che non si dica e giulente stava a udirlo come il messia lasciandosi rimorchiare sempre più disertando il suo partito per corteggiare lo zio aspettando di prenderne il posto il duca infatti gli aveva detto quando sarò stanco lascerò a te il collegio e questa era la secreta brama di benedetto esser deputato mettersi nella grande politica per dargli pazienza il duca lo aveva fatto eleggere consigliere comunale e discorreva con lui anche delle cose del municipio delle riforme da introdurvi quantunque il parlamento fosse in piena sessione egli non parlava ad andar via occupato a sbrigare i suoi affari il patriottismo gli era costato per sussidiare i perseguitati per comprare fucili e cartucce per offrire rinfresche alla guardia nazionale aveva fatto qualche debituccio ipotecata la sua magra proprietà ora la rimetteva in ordine dove trovava i quattrini dicevano che spartisse negli appalti fatti accordare a giulente zio ma quei guadagni quantunque grossi non potevano bastare alle grandi operazioni che disegnava fondata la banca meridionale di credito e di depositi aveva sottoscritto per cento azioni di mille lire l'una è vero che non aveva versato se non un quarto ma nello stesso tempo egli parlava ad una grande compagnia di navigazione a vapore di una società per la lavorazione degli zolfi di un'altra per il taglio dei boschi etnei don blasco e donna ferdinanda ciascuno per conto proprio si ingegnavano con ogni mezzo di appurare come facesse fu il marchese federico quello che li mise sulla buona strada con le economie del suo largo reddito il marchese faceva ogni anno qualche acquisto ultimamente aveva comperato una villa al bevedere per stare a casa propria durante la villeggiatura e gli era rimasta tuttavia una sommetta della quale non sapeva che fare era troppo esigua per comprare una proprietà darla a mutuo non voleva che cosa bisognava farne acquistare rendita pubblica gli aveva consigliato il duca spiegando gli vantaggi dell'impiego offrendogli di farla venire da torino vostra eccellenza ne ha dunque comprata gli domandò il marchese ne ho comprata ne ho venduta secondo i corsi capisci bene poi quasi pentito di averli fatto comprendere che ci aveva speculato su durante i cinque anni passati a torino col comodo delle notizie appurate nelle anticamere dei ministeri aveva mutato discorso il marchese titubò un pezzo un po per fedeltà al principio borbonico molto più per paura di perdere i suoi quattrini frutto e capitale con l'idea che l'italia fosse sempre sul punto nonché di fallire ma di andare a rotoli finalmente un giorno incontrato il duca che veniva a riscuotere le cedole del semestre scaduto vistolo venir via con un bel rotolo di biglietti si decise e la sera che annunziò al palazzo l'acquisto bisogna sentire don blasco a pezzo di pagliaccio anche tu con l'italia anche tu sei impazzito anche tu perché tentò rispondere il marchese al 66 il capitale frutta il 7 e mezzo per cento le cedole sono pagate puntualmente alla scadenza il monaco stava a sentirlo spalancando tanto d'occhi come aspettando di vedere fin dove sarebbero arrivate le enormità che quel bestione eruttava alla fine scoppiò te ne netterai il fondamento delle tue cedole andrai a riscuoterle a lungo comodo pezzo d'asino e rivolto a chiara con le mani in capo fallo interdire ti vuol rovinare l'impiego al 7 per cento se non ne vogliono neppure nell'emosina girando poi uno sguardo tutti intorno con amara ironia impiego sicuro signori miei quando la rendita napoletana era al 110 un altro poco scenderà al 5 la cartaccia sporca allora con 5 lire di capitale avremo 5 lire l'anno arricchiremo tutti quanti viva la cuccagna viva il gran vittorio il duca che stava in un angolo con benedetto spiegandogli le proprie idee sull'avviamento della banca meridionale che sotto la direzione di don lorenzo giulente doveva venire all'aiuto dell'incremento industriale e commerciale e cooperare l'opera protettrice del governo sorrise impercettibilmente scrollando le spalle alla sfuriata del fratello chiara preso in disparte suo marito gli disse non dar retta quel pazzo tu hai fatto benissimo comprane dell'altra e dopo un poco lo condusse via prima che la società si sciogliesse come faceva da un pezzo senza che si sapesse la ragione della sua gran fretta di tornare a casa segue